Bene, stasera cercheremo di esplorare un po' questo mondo del quale passiamo in fondo un terzo della nostra vita, come qualcuno ha detto. Si parla tanto di alimentazione e salute, cioè le diete, essere in forma, mangiare bene, le calorie, però si parla poco del sonno e della salute. Dormire bene per essere in forma è altrettanto importante, non solo per quel terzo della vita che passiamo dormendo, ma anche per essere efficienti durante la giornata. Quindi questa sera entreremo un po' nelle vostre camere da letto, esplorando un po' questo universo sommerso del sonno, dei sogni e dell'insonnia. Perché la medicina, la ricerca medica, ci sta raccontando e sta scoprendo molte cose interessanti. Vediamo questo breve filmato. Per esempio, sapevate che ci sono persone che cadono mentre parlano, anche dei cagnolini che si addormentano mentre camminano. Sono dei sonni improvvisi. Sapevate per esempio che a due soli giorni il neonato già ha tutte le espressioni di base che saranno poi quelle delle sue emozioni durante la vita e che quindi si esercita. E sapevate che ci sono persone che durante la notte, russando, hanno dei periodi di apnea in cui il respiro viene sospeso con conseguenze che possono essere gravi. Ecco, esploreremo anche il mondo del russare perché vedrete ha delle implicazioni sorprendenti che non sono conosciute. Vorrei intanto presentarvi gli ospiti che sono stasera qui con noi, poi parleremo un po' meglio. Solo un primo accenno, Carlo Verdone. Un applauso. Anche perché stasera è venuto da noi, malgrado un incidente che ha avuto e che lo fa soffrire molto. Grazie Carlo, la prova d'amicizia e di professionalità. Poi Alessandra Appiano che è una scrittrice di libri strani, umoristici, poi ne parleremo un attimo, che ha anche lei col sonno un rapporto molto particolare, poi ce lo spiegherò. Va bene. E Aleandro Baldi, vincitore del festival di Sanremo, col quale parleremo di sonno ma anche di sogni, perché lei ha un rapporto particolare col sogno, dal momento che è cieco da nascita e quindi non ha avuto modo di costruire delle immagini per i suoi sogni. Pare, poi vedremo. E poi vedremo, non è proprio così. E poi abbiamo altri due personaggi, questa volta due studiosi, due ricercatori, il professor Bertini che è preside della facoltà di psicologia all'Università della Sapienza di Roma, grazie di essere con noi. E il professor Elio Lugaresi che è presidente dell'Associazione Italiana della Medicina del Sonno, che è una nuova branca della medicina estremamente importante come vedremo stasera. Un applauso. Dormendo solo quattro ore. E la scorsa notte totalmente in bianco. Quindi è crollato, morto di sonno. Adesso nel vostro sgabuzzino, con il dialettrodo in testa, a che punto è il suo sonno? In questo momento in particolare si sta avendo quasi un risveglio. Senta, noi cercheremo di collegarci naturalmente con voi quando avrà i segnali del poligrafo che riveleranno la fase del sogno e quindi magari svegliandolo cercheremo di farci dire che cosa sta sognando. Una battuta, dottor Mennuni, sull'importanza di questi studi, anche perché penso che l'insonnia riguardi un numero enorme di persone. Più o meno quante persone in Italia soffrono? Ma direi che in maniera abbastanza consistente ne soffre circa un 16-17% della popolazione che sicuramente sono più interessate le donne fra i 45-55 anni e che un 8% della popolazione va incontro a un problema di insonnia molto serio. Quindi diciamo 4-5 milioni di italiani hanno dei problemi gravi di insonnia, quindi è un programma che penso riguarderà e interesserà molte persone. Per cominciare questo viaggio nel sonno vi vorrei proporre un breve filmato di soli 35 secondi in cui la notte di una persona è stata filmata all'acceleratore e abbiamo le 7-8 ore di sonno viste in soli 35 secondi. Ecco questo filmato, si è calcolato che più o meno ci sono 8 o 12 principali cambiamenti di posizione, gli insonni hanno due o tre volte questa media, ci sono dei periodi più calmi, altri più agitati, troppi movimenti disturbano il sonno ma pochi forse sono ancora peggio. E questo avviene in particolare quando si beve troppo alcol, si rischia di schiacciare il nervo radiale del braccio danneggiandolo, questo avviene raramente. Ecco questo filmato ci mostrava un sonno durato circa 7 ore e mezzo, ma in media quante ore dormiamo per notte? Vediamo questa piccola scheda che ci dà un po' delle medie. Il tempo dedicato al sonno cambia con il passare degli anni. Alla nascita per esempio un bambino dorme in media 16 ore su 24, in un adulto il sonno si riduce a 7 ore e mezzo. Oltre i 70 anni non si dorme più di 6 ore per notte. Tuttavia nelle persone anziane si devono aggiungere anche i vari pisolini diurni. Bene, quindi non è sempre forse vero che gli anziani dormono meno, ci sono questi pisolini che poi si vanno a aggiungere. Carlo Verdone... Mi sento molto vecchio a vedere queste... Perché ho delle medie molto basse. Ha delle medie basse, ha un rapporto un po' conflittuale con il sonno. Direi tormentato. Tormentato. Quante ore dormi? Ma variano tra le 5 e le 6, ma è difficile che riesco ad arrivare a 7. Però vorrebbe dormire di più. Perché dice purtroppo? Perché vorrei tanto dormire di più, ma c'è qualcosa che non me lo permette. Però credo che sia qualcosa di ereditario della mia famiglia, perché mia madre alle 6 di mattina già stava al telefono, ho sentito bollettini di naviganti alle 5 e mezzo, telefonate. Tutta la meteorologia. Tutta la meteorologia, con mio fratello non più con un attacco d'asma che soffia. Quindi era un disastro quella casa. Credo che questa sera imparerà parecchie cose interessanti. La sua vicina di banco, Alessandra Appiano. Mi sento molto giovane invece, perché io dormo tantissimo. Quanto dormo? Lo devo confessare, 9-10 ore per notte. Bene, ma è giusto. Lo so. Poi sentirete i professori che spiegheranno che ognuno ha i suoi cicli, non solo all'interno del sonno, ma anche nel ciclo della giornata, i così detti ritmi circadiani. Lei sarà un altro rapporto anche divertente, divertito un po' con la vita in generale, e forse anche con quella notturna. Nel senso che ha scritto un paio di libri, uno intitolato, mi ricordi? Il primo, La vita in mia e me la rovino io. E me la rovino io. Però non mi sembra che sia rovinata. Ma no, no, no. Cerco di dormire tanto per non fare ulteriori guai. Quindi credo che invece il sonno sia... E l'altro libro invece era? L'ultimo che è uscito quest'estate è Sola, col punto interrogativo. La donna sola. E la vita della singola. Ma è un sottotitolo che abbastanza... Beh, la sola che è anche la sola, no, in romano. Cioè, vuol dire la donna che è anche un bidone. E che insomma insegna un po' come vivere felici con gli uomini e le altre, che sarebbe un po' la situazione di queste povere... Parleremo stasera comunque parleremo soltanto... E' umoristico, eh. ...delle notte in sonno. Alejandro Baldi, lei, dicevamo prima, ha questo rapporto molto particolare col sonno e con i sogni di cui parleremo in seguito. Perché essendo cieco dalla nascita, proprio non ha mai avuto un'immagine da memorizzare. Ora, le ricerche dicono che il nostro sonno è regolato anche dalla luce. Cioè, la luce ha una certa azione per attivare degli ormoni attraverso questo ciclo buio-luce. Lei sente qualche differenza vivendo sempre nel buio? Ma io no, non sento nessuna differenza, non c'è niente... Ma sente il giorno e la notte? Beh, non distingo, diciamo, il giorno dalla notte. Ho una vaga percezione di immaginazione di quello che può essere il giorno e di quello che può essere la notte. Poi lo sento da altri fattori, dal clima... Dai rumori. Dai rumori intorno che durante il giorno ci sono, ecco... Io vorrei però ricordare che se ci sono persone che dormono 10 ore o 5-6 ore in modo conflittuale, ci sono persone che dormono 4-5 ore in modo perfettamente tranquillo. Per esempio il calciatore Tardelli è uno che dorme famoso 4-5 ore ed è quel grande atleta che tutti conosciamo, quindi non risente del poco sonno nella sua vita anche fisica. Ma vorrei citare un altro personaggio che purtroppo non ha potuto essere qui questa sera e che vorrei salutare perché so che è in ascolto, è che è il giornalista scrittore Oreste del Buono. Oreste del Buono dorme soltanto due ore e mezza per notte e quindi ha una specie di doppia vita. Quel terzo della vita che noi sprechiamo, tra virgolette, ha letto, lui invece lo vive. E allora mi ha dato qualche, diciamo, un po' un menu della sua giornata che è estremamente interessante perché lui va a letto intorno alle 11 e mezza, mezzanotte, verso le 2 e mezza si sveglia e si sveglia e comincia la sua attività lavorativa. Lui legge e scrive, scrive, ma ha detto circa mille articoli l'anno, proprio perché ha tutto questo tempo davanti. Ha tradotto da varie lingue 200 libri. Alle 6 del mattino va a prendere i giornali, alle 7 è già l'ora del pranzo e noi fa il pranzo alle 7. Dopodiché comincia la sua giornata normale, verso mezzogiorno c'è una merenda, dopodiché continua il pomeriggio, alle 6 è l'ora della cena e passa la sua serata, normalmente a mezzanotte va letto per ricominciare alle 2 e mezza a scrivere articoli e a tradurre libri. Ecco, quindi vede, cara Alessandra, lei ne ha scritti solo due di libri. Fellini, naturalmente, ma molti calciatori, mi hanno detto anche Bruno Conti, Oriali, sono tutte persone che stanno benissimo e che dormono poco. Ecco, c'è una persona invece che col sonno ha un rapporto molto particolare ed è la signora Giulio Dori. Grazie signora di essere venuta questa sera. Ecco, la signora Giulio Dori soffre di quel disturbo che abbiamo visto nel filmato precedente, cioè è un disturbo che si chiama narcolessia. Cioè, si cade addormentati di colpo, specialmente, lei mi ha detto, quando qualcuno la fa ridere. Sì. Ma lì c'è verdone qui stasera. Sì, me l'hanno avvisato. Dunque, devo dire che poco fa, prima di venire in trasmissione, una nostra assistente stava raccontando una barzelletta e lei si è addormentata. Sì, è andata giù. Dunque, lei è una persona estremamente simpatica, la signora Giulio Dori, e prende tutto questo disturbo, che poi non è nessuna malattia, ma è semplicemente da questi strani ritmi di vita. È una bella malattia. È una malattia, ma diciamo, lei comunque sta bene di salute, tranne questo fatto di addormentarsi. Sì, è piuttosto tragico, ma insomma, bisogna imparare a viverci. Ecco, lei come lo gestisce? Lo gestisco quando ho bisogno di dormire, dormo. Dormo in autobus, dormo in genere. Se sto per la strada, vado in chiesa. Quando sento questo bisogno invincibile di sonno, E riesce a dormire? Sì, subito, come mi siedo, parto, vado da dieci minuti a un quarto, mezz'ora, nessuno mi disturba e dormo. Quando sono a casa, a volte non me ne accorgo nemmeno, me ne accorgo dal fatto che è passato il tempo. Dormo dovunque, ho dormito anche in cucina avanti ai fornelli, per esempio. Ecco, io vorrei un attimo parlare col professore Elio Lugaresi, che tra l'altro conosce la signora, perché hanno avuto modo di incontrarsi per ragioni professionali, e parlare un attimo di questa narcolessia. Intanto, quanto rara è questa malattia? Beh, è una malattia relativamente rara, ma non rarissima. Ecco, ce ne sono, io ne vedrò dieci casi all'anno. Ecco, io vorrei intanto che la regia mandasse un filmato, perché rivedremo un po' le immagini che prima abbiamo intravisto e ne vedremo anche delle altre. Ecco, questa è una situazione in cui questo signore, ecco, si addormenta di colpo. Sì, è una malattia conosciuta da moltissimo tempo, fin dall'Ottocento. Ecco, ne qui un altro che sta giocando a baseball. Ecco, direi però che questi non sono tutti attacchi di sonno, perché ci sono due tipi di attacco, l'attacco di sonno vero e proprio, e poi ci sono delle crisi di perdita di forza, caduta del tono, che si chiama cataplessia. E questi malati hanno questi due tipi di attacco. La cataplessia in particolare ce l'hanno quando provano un'emozione. Ma anche i cani ce l'hanno, alcuni tipi. Alcuni nasi di cani, alcuni nasi di cavalli hanno questa malattia. Come se ne esce? Come si può affrontare? Guarda questo cagnolino che non riesce a stare in piedi. Questo è un altro, guardi questo, proprio di colpo. Fulminato. E come si cura questa... Ecco, la signora qui è testimone. Si può alleviare, non la si può guarire, questo occorre dirlo. Anche per i cani è l'emozione che scatena questo... Sì, in quel filmato lo conosco, credo sia un filmato di Stanford. Sì. Quindi il tono muscolare si affloscia completamente. Anzi, questo è più frequente. Allora, questo tipo di attacco viene curato abbastanza bene con certi farmaci. Invece l'attacco di sonno è più difficile da trattare e un artificio a cui si può ricorrere è quello di fare dei pisolini programmati durante la giornata, perché questo dà un periodo refrattario durante il quale uno può vivere normalmente. Ecco, io volevo chiedere un'altra cosa alla signora. Lei mi ha detto che gira con un biglietto nella borsetta, che ce l'ha anche qua. Ecco, cosa dice questo biglietto? Dice, attenzione, si tratta di una forma di malattia, non c'è pericolo, è una improvvisa debolezza muscolare, per cui deve sedersi, ma non può, perché sono paralizzata, non mi posso più muovere. Io ho bisogno di sedermi, assolutamente. Deve spiegare le persone che non hanno un infarto. Certo, al posto attengo questo. Certo, il giorno che mi piglia un infarto mi lasciano morire, perché con questo... Lei mi ha detto anche una cosa curiosa, che quando le succede questo sonno improvviso, siccome entra subito nella fase cosiddetta REM, poi ne parleremo dopo, e il tono muscolare non risponde più. Quindi nella primissima fase, lei sente quello che sta succedendo? Io sento tutto, certo, sento tutto perfettamente. Più lo sento e peggio sto, perché in genere sono commenti non molto gradevoli, perché mi prendono per drogata, o qualcuno anche perché ho bevuto, roba simile. E allora, naturalmente, siccome l'emozione che a me me lo provoca, mi dura di più. Bene, signora, torneremo poi con lei più tardi. La ringraziamo anche dalla sua simpatia. Grazie. Professor Bertini, ma c'è una domanda apparentemente semplice, apparentemente banale, ma che per voi è molto difficile. Cioè, perché si dorme? Per quanto possa apparire veramente molto sorprendente, ormai sappiamo moltissime cose sui meccanismi del sonno, ma il perché questa specie di tiranno gentile, no, che ci obbliga a dormire ogni notte, perché? Questo, ci sono varie ipotesi. A volte si dice perché in questo modo ci si disintossica, ma in realtà non è così, basterebbe riposarsi. Sì, questo è vero. L'ipotesi immediata è quella di un recupero di energie, ma in realtà anche durante questa fase il cervello, che dovrebbe essere quello più sottoposto al recupero, mostra delle fasi di particolari attività. Altri pensano addirittura che non sia tanto per riposarsi, quanto per impedire di agitarsi, quando potrebbe essere anche durante il buio, potrebbe essere anche nocivo, dal punto di vista evoluzionistico, il rincontrare predatori, oppure cadere in precipizi. Io credo che ci sia anche una funzione particolare, più importante e attiva, non solo passiva del sonno, che è quella un po' più di riorganizzare. Per esempio, vorrei fare un esempio facile. Ecco, immaginiamo un negozio. Il negozio ha due momenti. Uno è quando è aperto, che ha un'attività di commercio, di scambio con l'esterno, e poi a un certo punto, quando si chiudono le città cinesche, da parte ci potrà essere anche l'esigenza di ripulire, ma dall'altra anche quella di riorganizzare, di ristrutturare l'ambiente. Di fare l'inventario, di rimettere a posto le cose. E questo in rapporto a che cosa? Alle esperienze fatte durante la giornata, e quindi è un'esigenza anche perché è troppo massivamente importante la presenza di questa fase, dal punto di vista biologico, puoi pensare che non abbia un senso. Io intanto vorrei proporvi un filmato realizzato da Lorenzo Pinna, perché in fondo noi facciamo parte della natura e in natura esistono dei cicli naturali nei quali noi stessi ci inseriamo. Tutta la vita è un ciclo. Vediamo. I grandi fenomeni naturali sono in gran parte ciclici. La notte e il giorno, per esempio. L'alternarsi delle stagioni con il passaggio dal freddo al caldo e poi di nuovo al freddo. Oppure dalla siccità alle piogge e di nuovo alla siccità. L'oscillazione delle maree provocate dalla luna e dal sole. Ed anche gli animali seguono vari cicli. Il ciclo della riproduzione è in sincrono con quello delle stagioni. In particolari ambienti si sono instaurati i cicli dell'etargo e del risveglio, oppure delle grandi migrazioni alla ricerca del cibo. Persino all'interno degli organismi viventi e dell'uomo, molti fenomeni seguono cicli che si susseguono nel tempo. Il ciclo femminile, la concentrazione di vari ormoni nel sangue, l'alternarsi della veglia e del sonno. E infine anche la vita e la morte rappresentano un ciclo che si ripete in continuazione. Quindi tutta la vita è regolata da cicli. Non solo i ritmi che noi abbiamo tra il sonno e la veglia, quindi i ritmi delle 24 ore, ma anche durante il sonno esistono dei veri e propri cicli che i neurofisiologi, attraverso gli apparecchi che abbiamo visto prima, stanno studiando. Vediamo come funziona questo sonno in una breve scheda di Lorenzo Pina. Tutto comincia quando ci si addormenta. L'attività cerebrale mostra onde che diventano sempre più regolari. Il tono muscolare è ancora presente, mentre il battito cardiaco e il ritmo respiratorio cominciano a rallentare. La pressione e la temperatura corporea si abbassano. Anche la concentrazione di diversi ormoni cambia. Progressivamente il sonno diventa più profondo. Il tracciato dell'attività cerebrale mostra onde di ampiezza sempre più grande. Sono ormai passati 80-90 minuti da quando ci si è addormentati, ma ecco che appare all'improvviso una nuova fase. Il REM, caratterizzata dai rapidi movimenti degli occhi. Non solo. Le onde cerebrali diventano irregolari come quelle della veglia, mentre battito cardiaco e pressione subiscono brusche variazioni. È questa la fase dei sogni. Il tono muscolare si riduce per proteggere il sognatore da reazioni troppo realistiche e violente alle immagini sognate. Dopo la fase dei sogni, il REM, si ricomincia da capo con il sonno leggero per poi finire in quello più profondo e poi in una nuova fase REM, cioè a sognare per altri 10-20 minuti. Nel corso di 8 ore di sonno si succedono dai 4 ai 6 cicli e gli ultimi cicli sono leggermente diversi dai primi. Infatti, la fase dei sogni tende ad allungarsi, mentre quella del sonno profondo si accorcia. Ma è ormai l'alba e arriva il risveglio. Ecco, il sonno quindi ha una sua architettura, una sua struttura, l'abbiamo vista, che non può essere perturbata. Scusi, dottor Menuni, volevo solo sapere a che punto è il nostro volontario. Si era addormentato e si è risvegliato, ma adesso io penso che si tornerà a dormire. Forse è anche un po' emozionato da questa prova. Comunque, lei ci chiama in qualunque momento quando sta sognando, così cercheremo di svegliarlo. Quindi dicevo, il sonno ha questa architettura che non può essere perturbata se non ha rischio poi di danni durante il giorno, perché queste cose si pagano poi durante la giornata. Penso che qualunque genitore, ce ne sono tanti qua, ha conosciuto questi micro-traumni o macro-traumni del sonno quando un bambino tiene sveglio. Ecco, penso che in queste immagini molti si riconosceranno. Noi abbiamo inserito qui un piccolo cartone animato in cui Pippo, in un famoso cartone di Walt Disney, mostra le conseguenze di una notte in somme. Ecco, andando in ufficio la sua efficienza lascia a dir poco a desiderare. A lei capita ogni tanto con questo rapporto notturno un po' conflittuale poi di giorno di avere dei problemi non in ufficio ma diciamo nel lavoro. Il giorno dopo in genere non ne ho mai. Magari dopo il secondo, il terzo giorno sicuramente si grossi soprattutto quando lavoro. Quindi si ripercuote un po' a distanza. Si ripercuote a distanza non immediatamente. Invece lei, Alessandra... Io al massimo faccio delle figuracce. Cioè magari mi chiamano alle 11, a mezzogiorno non so, magari dal giornale mi dicono è successa questa cosa qui fai un commento e io che non posso dire che sto dormendo cerco di trovare delle scuse sì, no, un attimo insomma credo che se dormissi in me non sarebbe meglio insomma Diciamo che ognuno di noi ha i problemi un po' col sonno Ma io credo che bisogna un po' conviverci come per esempio al mio caso perché inizialmente me ne facevo tanti problemi poi alla fine ho accettato questa situazione e mi tengo le mie cinque ore scarse purtroppo è che sono frammentate di notte da risvegli perché potessi far... Magari dal corpo di telefono a Oreste del Buono così... Ecco potrebbe essere già una buona comunicazione Ci sono persone che per professione dormono poco dormono male per esempio questo signore vi facciamo vedere qual è il suo posto di lavoro eccolo in questo filmato è a bordo di un jet di linea è un pilota il signor Guido Massaro e lui se ne va in giro di notte un po' da varie parti del mondo superando tanti fusi orari e quindi ritrovandosi poi con dei ritmi circadiani continuamente spostati e sbalestrati Mazzaro fare il pilota cosa vuol dire dal punto di vista del dormire? Allora fare il pilota sulle linee intercontinentali come lo faccio quelle che viaggiano orizzontalmente est-ovest in pratica si ha questo problema di rivoluzionare questi cicli circadiani perché sonno e veglia sono rivoluzionati e quindi bisogna prendere delle precauzioni per evitare che la nostra attività di sveglia che deve avvenire una domanda manale ma voi non potreste tenere l'orologio sempre sull'ora di Roma o di Milano e poi però questo è impedito dal fatto che i voli poi vengono di notte certo i voli quelli diciamo corrotta est vengono tutti di notte cioè rientro dagli Stati Uniti o andate ritorno dall'est si uno può anche tenere l'orario il problema è riuscire a recuperare il sonno perduto per i momenti in cui serve che noi siamo svegli lei mi ha detto che la professione di pilota è una delle più logoranti dal punto di vista proprio statistico si è una delle più logoranti e per questo motivo di questa rivoluzione dei cicli e soprattutto anche perché noi volando ad alte quote ad alte latitudini siamo esposti a radiazioni ionizzanti la sommatoria di questi due effetti negativi porta a un decadimento delle cellule un invecchiamento precoce delle cellule e infatti la statistica dice che la vita media del pilota è decisamente inferiore alla vita media di un cittadino che fa un lavoro tra virgolette normale cioè che tipo di speranza di vita lei mi ha citato un dato abbastanza sconcertante si è un dato sconcertante purtroppo gli studi che sono ancora in corso perché chiaramente il problema è lungi dall'essere risolto le statistiche dicono che la vita media del pilota che vola per tanti anni sui jet quindi alta quota e altre latitudini potrebbe avere un abbassamento medio che varia dai 5 ai 7 8 anni rispetto a una persona normale ci sono molte professioni che hanno questo problema del rapporto lavoro sono le sentinelle i vigili notturni i poliziotti coloro che fanno turni di notte negli ospedali e naturalmente quelli che lavorano in fabbrica nel turno C vediamo questa scheda di Giangipoli stanchissima stanchissima e adesso vado a dormire adesso vado cerco di dormire se una persona non riesce a dormire di giorno praticamente che non riesce a dormire la notte è valota perché quando verso le 2 alle 3 uno crolla negli Stati Uniti i turni notturni solitamente si prolungano per molte notti consecutive la frequenza dei problemi cardiocircolatori e digestivi dei lavoratori notturni è circa il doppio di quella dei lavoratori diurni e aumenta se i turni di notte vengono protratti per anni e anni nei turni di notte calano inoltre la vigilanza e i tempi di reazione e sale quindi il numero di incidenti sul lavoro è stato calcolato in una centrale nucleare americana che gli errori compiuti dai lavoratori notturni dalla mezzanotte alle quattro sono circa il doppio di quelli compiuti dai lavoratori diurni nell'arco dell'intera giornata in generale è ormai noto che tra le due di notte e le otto del mattino la vigilanza e la produttività di un lavoratore notturno anche di quello che ritiene di aver dormito ragionevolmente bene il giorno precedente sono paragonabili a quelle di un lavoratore diurno che abbia dormito solamente quattro ore per due notti consecutive si cerca di riparare a questi danni facendo lavorare la gente per esempio a rotazione dalle 7 alle 13 una settimana dalle 13 alle 19 un'altra dalle 19 all'una di notte un'altra e dall'una di notte alle 7 di mattina un'altra ancora oppure alternando due turni di lavoro diurno a uno di lavoro notturno i risultati secondo le testimonianze dei lavoratori non sembrano essere soddisfacenti anche se vi sono persone che naturalmente lavorano meglio di sera i cosiddetti gufi e altre di mattina le cosiddette allodole nei lavoratori notturni alle difficoltà causate dal cambiamento dei ritmi del sonno si aggiunge anche lo sfasamento dell'esposizione alla luce solare diversamente da quanto avviene nei viaggi intercontinentali il ricercatore Charles Zeisler dell'Università Americana di Harvard ha cercato di accelerare l'adattamento ai turni di notte esponendo gli operai a una luce brillantissima di tipo solare e ha verificato che dopo solo 5 nottate l'adattamento al lavoro notturno era completo contrariamente a quanto accadeva agli operai del gruppo di verifica che aveva continuato a lavorare di notte con una illuminazione normale il problema non è poi soltanto quello di dormire o di recuperare in realtà poi molte persone durante la giornata sono sonnolenti e questo non viene compreso bene a volte ne parleremo poi con un signore che è qui con noi che ha proprio questi problemi di sonnolenza durante la giornata ma a volte queste persone sono oggetto di larità e persino di scherzi pesanti vediamo più le ipocrisie ausarchiche del tempo di guerra meno male questi sono capelli che non si vergognano più di sospetti che hanno riduciato alle proporzioni microscopiche di qualche anno pagliatelo sul piccolo fanno finalmente una parizione per loro e con la pariare di un'unità di un'unità di un'unità e non mi rompe coi nadotti ecco poveretto questo signore avrebbe avuto bisogno di un po' più di solidarietà e comprensione e non di scherzi atroci di questo tipo comunque l'insonnia e la sonnolenza durante il giorno è una brutta bestia perché il colpo di sonno è sempre in agguato e il colpo di sonno quando avviene al volante di un'automobile può avere conseguenze disastrose vediamo questa pillola che avevamo realizzato tempo fa assieme a Bruno bozzetto la sonnolenza è una nemica insidiosa per chi guida può essere utile aprire il finestrino oppure respirare profondamente o conversare con gli altri viaggiatori ma la mossa vincente è sempre questa è la più saggia ecco Verdone stava dicendo che a lui non viene mai il sonno in macchina magari ma magari mi venisse no non mi viene quindi la radio no il caffè non lo prendo perché già con quelle 5 ore scarsa ci metto pure un caffè veramente poi diventa uno zombie no no quindi quindi musica buona musica musica la musica piace quindi mi accompagna la musica in genere non ho mai avuto di questi problemi e Alessandra Piano al volante tutto quello che dormo avere anche dei colpi di sonno sarebbe sarebbe veramente il colmo vorrei chiedere al professor Lugaresi se c'è qualche consiglio che si può dare per evitare di addormentarsi al volante abbiamo visto quello che ci indicava Bozzetto che mi sembra che forse è il più saggio ma ci sono delle ore ci sono mi hanno persino detto che c'è una macchinetta per evitare di addormentarsi no io la macchinetta ci credo poco però ci sono sì degli accorgimenti fermarsi quando c'è il sonno così che ci assale e se si può evitare di guidare in certe ore della giornata e della notte tra le due e le quattro del pomeriggio tra le due e le sei del mattino vi è indipendentemente da quanto abbiamo dormito prima una grande tendenza ad addormentarsi ma questa macchinetta in cosa consiste qualcosa mi hanno detto che si mette vicino all'orecchio e quando si chiudono le palpe o la fronte cala dà una sveglia non la conosco ma non credo sia una gran macchinetta comunque partire già con la macchinetta è un errore è meglio la radio è meglio la radio ecco senza questo problema della sonnolenza del resto esiste non soltanto perché guida la macchina ma magari perché guida una petroliera perché l'indagine che è stata fatta dopo l'incidente della famosa Exxon Valdez che ha versato quantità enormi di petrolio in Alaska è stato il più grande disastro nella storia del mare ha mostrato che chi era al momento al comando della petroliera praticamente dormiva in piedi e c'è un altro luogo in cui può nascere la sonnolenza fatale ed è la discoteca perché qui lo sappiamo se ne è discusso molto negli ultimi tempi si sta alzati fino a tardi anzi si comincia già tardissimo andare in discoteca poi è poco come fare i turni alla Fiat è quel disastro poi di quelle pillole e questo è poi il risultato e purtroppo poi a volte si esce anche non solo stanchi ma anche dopo aver bevuto qualche bicchiere in più ecco naturalmente il sonno è sempre il grande nemico di chi guida di notte qui abbiamo una persona un camionista il signor Moroni che si deve continuamente confrontare con con la notte e col volante lei tutte le notte sulle strade si tutte le notti a partire dalle due alle tre del mattino e come si regola per evitare il famoso il micidiale colpo di sonno non so solitamente come diceva il professore avviene nell'arco del dopo pranzo dalle due alle quattro allora uno si preoccupa di mangiare poco ma scusi lei comincia verso le tre alle quattro del mattino e fino a che ora guida? precisamente fino alle otto le nove sera delle volte anche più delle volte si rientra prima questo tutti i giorni non ha come i piloti dei turni di riposo no questo avviene tutti i giorni a volte anche nei periodi festivi a domenica lei ha mai rischiato qualche incidente? è capitato una volta e mi è bastato un'esperienza insomma per prendere precauzioni quando capita qui non è il momento di discutere questo argomento però si sa e si dice che spesso i regolamenti che ci sono per i riposi di chi guida non sono molto rispettati sì questo è vero ma d'altra parte bisogna portare a fine la giornata lavorativa in qualche modo anche prendendo le precauzioni io personalmente preferisco rientrare un po' più tardi professor Lugaresi nei vostri studi sul sonno in vari laboratori sono stati tentati degli esperimenti di deprivazione cioè provazione prolungata dei volontari sono stati sottoposti ha dei notti interi insonni per giorni e giorni consecutivi cosa succede? a un certo punto cominciano le allucinazioni la cosa più banale è che la persona privata di sonno ha sonno e tende ad addormentarsi e poi ha degli effetti psicologici si memorizza meno è meno capace di concentrarsi e poi ha degli effetti fisici si sente più stanca più affaticata poi se si prosegue nell'esperimento possono venire fuori anche dei disturbi più gravi tipo quelli che lei ricordava cioè delle allucinazioni ma quanti giorni o quante notti si può stare senza dormire? beh così diciamo per sfida 12 13 14 notti ma cosa succede a quel punto? a quel punto insomma la situazione diventa insostenibile il sonno prevale vince la capacità è una vera tortura però e penso di sì penso di sì infatti era utilizzata come tortura è stata utilizzata come tortura in certi interrogatori tra l'altro noi abbiamo un breve filmato da farvi vedere è un filmato che ricorda la storia di Arthur London in un film di Costa Gavras intitolato La confessione proprio interpretato da Imontà che si svolge in una prigione sei il numero 3.225 ritornerò quando l'avrai imparato avanti cammina 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 vieni vieni non devi continuare a comportarti come un amico devi obbedire gli ordini cammina puoi dormire se vuoi sul dorso posizione regolamentare le braccia avanti dichiaro il tuo numero di matricola numero di matricola 3.225 puoi dormire se vuoi in piedi in piedi numero di matricola ecco fatto ci vuole la doccia per svegliarti questo era un film che è basato su un famoso libro di un interrogatorio che si svolgeva in una prigione cecoslovacca durante lo stalinismo non dormire dicevamo prima è una vera tortura ma può essere anche una tortura fatale su animali si è provato una deprivazione di varie settimane cosa è successo qui c'è un esperimento fatto in america da reschaffen che è un ostigio del sonno e ha dimostrato che i ratti che non riescono a dormire muoiono nel giro di 10 20-30 giorni e muoiono per una zona malcomprensibile dimagriscono perdono proteine e in ogni caso sono destinati a morire gli esseri viventi hanno bisogno di dormire così come hanno bisogno di respirare e di bere ci sono però dei casi molto particolari come quello che vedremo nel filmato che la regista manderà ora in onda che si riferisce a un certo Leslie Gamble sentiamo la sua storia quest'uomo si chiama Leslie Gamble vive in Gran Bretagna ed afferma di non aver dormito un solo minuto negli ultimi 11 anni per verificare questa sua affermazione il signor Gamble è stato sottoposto ad una serie di test nel centro del sonno dell'università inglese di Loughborough questi test prevedevano una lunga veglia di oltre 36 ore qui vediamo Gamble insieme ad altri volontari e varie prove per verificare i riflessi dopo essere rimasto sveglio per più di un giorno e mezzo il signor Gamble è stato mandato a dormire con tutti gli elettrodi per misurare l'attività cerebrale il risultato di queste registrazioni il signor Gamble dorme ma pochissimo soltanto pochi brevi sonni di qualche minuto in un'intera notte tuttavia questi micro sonni e il riposo ridanno energia e lucidità al signor Gamble che adesso riesce nei test molto meglio dei volontari che continuano la deprivazione del sonno l'esperimento viene ripetuto anche la terza notte il signor Gamble dorme di nuovo per pochi minuti ma la mattina dopo si sente benissimo visibilmente meglio dei volontari che ormai stanno per raggiungere il limite prefissato delle 72 ore senza sonno ma cosa fa il signor Gamble nelle lunghe ore passate a letto senza dormire ecco la sua risposta riesco a rilassarmi completamente e penso alle cose più belle che mi sono capitate nella vita stavamo commentando col professor Lugaresi questo caso che non lo convince completamente non del tutto ci sono però persone lei ne ha curate anche che hanno la cosiddetta insonnia fatale familiare che cos'è? purtroppo è una malattia che abbiamo individuato noi circa dieci anni fa a Bologna ed è una malattia in cui tra gli altri disturbi compare un'insonnia qui veramente totale scompare la capacità di dormire insieme alla capacità di dormire scompare la capacità di organizzare tutti i ritmi vegetativi del cuore quindi queste persone non dormono non dormono e non hanno più oscillazioni circa di anni né della temperatura né della secrezione degli ormoni né delle funzioni vegetative e che conseguenze ecco non posso dire che siano conseguenze il fatto è che è una malattia fatale e nel giro di uno o tre anni arrivano il decesso ma non so se decedono perché non dormono o perché la malattia è una malattia grave che piano piano coinvolge tutto il cervello tutto l'organismo anche il cervello ecco nel cervello avvengono molte cose ne abbiamo viste alcune vediamo quello che avviene dentro appunto nei nuclei di cui lei parlava prima dell'ipotalamo dove nel momento in cui ci si addormenta vediamo in questa animazione curata da Gian Gipò il sonno non è come sembra un fenomeno di spegnimento dell'attività del sistema nervoso ma è un fenomeno attivo vale a dire che ci sono parti del cervello che si attivano per produrre e mantenere il sonno vediamo semplificando al massimo cosa accade quando ci addormentiamo alla sera le aree principali interessate al sonno sono l'ipotalamo il tronco il talamo e la corteccia nell'ipotalamo esiste un piccolo gruppo di neuroni responsabile dell'alternanza del sonno e della veglia un vero e proprio orologio biologico normalmente l'arrivo del buio notturno è lo stimolo che attiva l'orologio biologico programmato geneticamente per regolare il ciclo sonno-veglia dall'area anteriore dell'ipotalamo parte un flusso di informazioni che raggiunge la parte inferiore del tronco dalla base del tronco partono due flussi di informazioni uno blocca i centri vicini che normalmente mantengono lo stato di veglia un altro raggiunge il talamo che regola quasi tutti gli scambi di messaggi con la corteccia cerebrale una parte del talamo blocca parzialmente questo scambio di informazioni e anche i messaggi fra la corteccia e il resto del cervello e dell'organismo in questo modo si riduce la risposta agli stimoli sia esterni che interni e ci si addormenta ecco questa è una orologeria naturalmente molto complessa che qui abbiamo schematizzato però sostanzialmente mi sembra professor Lugaresi che sia questo il meccanismo di base che vale non solo per l'uomo ma anche per l'animale del resto le sperimentazioni lo mostrano perché anche gli animali naturalmente dormono lo sappiamo tutti forse sappiamo un po' meno che sognano anzi forse lo sanno tutti coloro che hanno un gattino o che hanno un cane però questi cicli del sonno della veglia della durata e anche del sogno sono diversi nelle diverse specie proprio perché è un adattamento di base alla sopravvivenza vediamo questa scheda di Lorenzo Pina anche gli animali dormono numerose ricerche hanno ormai dimostrato che il sonno è un fenomeno diffuso in tutto il regno animale e che senza sonno la grande maggioranza delle specie viventi non è in grado di sopravvivere nei mammiferi e negli uccelli il sonno si svolge secondo fasi molto simili a quelle dell'uomo sonno profondo e REM cioè la fase caratterizzata da rapidi movimenti degli occhi e nella quale si concentrano i sogni sono stati rilevati anche nei cani nei gatti nelle giraffe nelle anatre nei pappagalli eccetera la giraffa per esempio dorme solo due ore di cui mezz'ora dedicata al REM il pipistrello invece raggiunge le 19 ore di sonno al giorno di cui tre di REM i babbuini si accontentano di nove ore e mezzo mentre gli scoiattoli non si sentono riposati con meno di 14 ore in media un mammifero dorme 12 ore e mezzo mentre gli uccelli sempre in media molto meno circa 7 ore vi sono animali come i delfini o le foche che dormono con una sola metà del cervello mentre l'altra resta sveglia ciò sembra dovuto alla necessità di rimanere a galla o comunque in una posizione adatta mentre si è nell'acqua anche gli uccelli migratori che dormono in volo si riposano con solo metà del cervello mentre l'altra rimane in allerta e gli altri animali quelli a sangue freddo come i rettili gli anfibi i pesci o addirittura gli insetti dormono? secondo i ricercatori dormono anche loro ma il sonno è diverso le caratteristiche tipiche dei mammiferi come il sonno REM sono state registrate solo in alcuni rettili ma queste scoperte sono molto controverse tuttavia alcuni segnali come la diminuzione del ritmo cardiaco e il respiratorio fanno capire che anche i rettili si addormentano negli anfibi nei pesci negli insetti non si è riusciti fino ad oggi a registrare le onde cerebrali tipiche del sonno probabilmente perché il loro cervello è molto primitivo ma da certi particolari comportamenti è possibile capire che persino questi animali dedicano una parte delle 24 ore al riposo sospendendo ogni attività si tratta probabilmente di sonno vero e proprio anche in questi casi professore Bertini parliamo adesso di sogni lei è psicologo ma si è occupato molto del sonno ma soprattutto dei sogni ora la cosa che ognuno si chiede sempre è se questi sogni hanno un significato se c'è dentro un significato simbolico oppure come alcuni dicono si tratta di attività casuali dei circuiti nervosi che scaricano poi siamo noi a dare i significati ai sogni e poi perché si sogna è molto difficile in poco tempo dare un'idea così complessa però cercherò di far capire qualcosa agganciandosi un po' alla fisiologia quello che ci insegna non bisogna dimenticare che il periodo della fase REM che nell'adulto fase REM è quella del sogno in cui si svolge il sogno è circa del 25% nel neonato è addirittura del 50% se ricordiamo dall'immagine prima il bambino alla nascita dorme circa 16 ore e sono 8 ore di sogno bene qual è la funzione? quello che sappiamo è che durante questa fase c'è una profonda attivazione di tutto il cervello la corteccia in particolare nel bambino è molto probabile che in questa fase costruisca gli schemi fondamentali l'organizzazione della corteccia stessa alla nascita uno sa già succhiare una serie di comportamenti geneticamente preordinati allora nell'adulto cosa succede? nell'adulto durante il sonno di nuovo entra in gioco questa attivazione ma contemporaneamente il corpo è rilasciato come se fosse scollegato dal rapporto con l'ambiente entra in rapporto con stimoli con messaggi che vengono da un mondo antico e in qualche modo organizza e riorganizza i suoi programmi in rapporto alle esperienze giornaliere diciamo comunque noi mettiamo dentro il sogno un po' le nostre esperienze nel senso che i nostri sogni sia pure essendo noi commediografi li montiamo con le immagini della vita in proposito qualcuno ha fatto degli studi mostrando che per esempio le donne hanno immagini più di interni nei sogni e con rapporti più amichevoli gli uomini mediamente o tradizionalmente hanno sogni più di situazioni esterne e anche più aggressive ma la cosa interessante è che quando le donne esercitano professioni analoghe a quelle tradizioni degli uomini i sogni diventano quasi simili abbiamo fatto anche noi alcuni studi non solo differenze fra sessi ma anche lungo l'età evolutiva però quello che credo sia importante sottolineare è che nel momento in cui si sogna in qualche modo il soggetto riflette le sue esperienze anche le sue strutture di personalità quindi è molto importante e non è solo un fenomeno di casualità o di bizzerria è un fenomeno che va studiato se ho capito bene si è capito che il sogno è molto importante però non si sa a che cosa serve professor Ucalesi sono d'accordo anche io sono d'accordo relativamente relativamente ma sentiamo poi i nostri ospiti che cosa hanno sognato questa notte intanto Verdone io ho chiesto a loro di ricordarsi il sogno della notte scorsa allora Verdone il mio sogno è molto confuso perché ricordo qualche brandello però ricordo sicuramente la figura di Sergio Leone nel nostro ultimo viaggio che facemmo circa nove anni fa in Costa d'Avorio quindi io ero in questo villaggio della Costa d'Avorio a un tavolino con lui altri amici stavamo discutendo di lavoro lui era molto vivo questa cosa mi metteva molta gioia perché è stata una persona molto importante per la mia carriera è stato il mio primo produttore però venivano improvvisamente delle ondate molto forti dell'oceano molto violente che portavano via di volta in volta le sdraie gli ombrelloni le cose allora è un sogno un po' angosciante un po' angosciante quindi un po' tutti gli elementi di questo villaggio che piano piano venivano risucchiati dal mare e riportati io sogno sempre l'acqua comunque l'elemento acquatico è sempre presente nei miei sogni io odio profondamente il caldo l'estate l'aridità quindi mi piace la pioggia che a te sicuramente non piacerà anche a me non piace l'estate non piace agosto poi lo e allora niente quindi sogno sempre l'acqua entra mare mosso pioggia temporali laghi ecco io sempre sempre così tutta la meteorologia e poi l'elemento dell'aereo che un freudiano direbbe vabbè lei sogna di volare? io sogno spesso di volare c'è sempre questa fase del decollo con un tempo sempre piovoso l'aereo che vola basso e sfiora i palazzi ma non riesce sempre a spangarla sempre a riuscire ma anch'io lo sogno sì sì ogni tanto ho questo aereo con queste ali che sfiora i palazzi è il mio incubo ecco perché vengo sempre da voi durante i viaggi Alessandra Piano lei cosa ha sognato stanotte? se l'ha appuntato a fare il compitino? sì perché anche me sono sempre abbastanza confusi una cosa buffa perché ho visto una giornalista in televisione che conosco così ma che non mi è particolarmente simpatica né antipatica invece stanotte l'ho sognata come la protagonista di un grandissimo film cioè era una grandissima donna che faceva stragi di cuori tutti erano follemente innamorati di lei a un certo punto aprivo un armadio e lì comparivo anch'io mi faceva vedere i vestiti però ricordo anche molto bene così l'impressione che io faccio oh mamma mia se questa venisse a guardare il mio guardaroba ed è una cosa così non riesco a trovare piccola angoscia sempre ma no non lo so è un'interpretazione che ho dato ma chiediamo a Leandro Baldi perché ci possiamo chiedere ma chi non ha mai visto immagini in vita sua lei è cieco proprio dalla nascita mi sembra non ha mai visto niente in vita sua no allora i suoi sogni come sono? i miei sogni sono vari insomma sono dei sogni dove anch'io invece magari come sembra invece non è che voglia proprio smentire ma ho sognato delle mie delle mie immagini ho sognato del pericolo delle sensazioni di pericolo ho sognato dei sogni naturalmente magari molti di questi non c'erano immagini ma ero io che mi trovavo in un ambiente particolare che un ambiente che mi era familiare o non familiare lei per esempio ha queste sensazioni attraverso gli altri sensi cioè il tatto l'udito lo spazio è attraverso questo che costruisce un po' gli spazi dei suoi sogni sì ci sono tante tanti tipi di percezioni per esempio a volte diciamo attraverso anche gli odori ecco cioè sono tutte sensazioni tattili o di gusto che io ho provato al corso di quelle visive ha un sogno che ricorda che ha fatto la notte scorsa ma stanotte siccome stanotte ho dormito qui a Roma mi sono sognato Roma un po' di era un sogno un po' confuso rimettere a posto la roba negli armadi cassetti che si aprivano anche accomodamente esatto bene però lei vola anche sogna di volare sì sì una volta ho sognato di essere il più grande volatore europeo perché avevo inventato una teoria di volo che bastava circondurre le braccia e ci si alzava subito in aria poi molte volte scome ho fatto dei sogni appuntate c'era un sogno di soldati che le sognavo tutti i sabati sera l'ultima volta l'ultimo sogno era consisteva in un abbaio di cani da questo abbaio di cani c'erano dei briganti che mi assalivano e mi facevano morire l'ultima volta che ho sognato questo sogno ho cominciato a girarmi su me stesso e volare e questi banditi non mi hanno preso io ho chiesto perdone dal momento che lei vola così frequentemente di notte io ho chiesto anche una mia collaboratrice cosa aveva sognato la notte scorsa mi ha detto che se fate in volo tutto via le regine Margherita se la cosa la potete una cosa poco nota è che durante la fase del sogno la fase REM c'è un rilasciamento dei muscoli totale che porta a quella che i neurofisiologi chiamano paralisi in realtà non è una paralisi però una incapacità di muoversi ecco professor Bertini a volte nel sogno e penso sarà capitato anche voi sogniamo che siamo in mezzo a un pericolo non riusciamo però a correre non riusciamo a gridare e ci sentiamo proprio un po' paralizzati è dovuto a questo fatto che i muscoli non funzionano esattamente questa paralisi questa inibizione motoria attiva consente da punto di vista psicologico lo sviluppo completo delle fantasie nel sogno senza il rischio di agire si può uccidere una persona antipatica nel sogno o qualche cosa associata alla persona antipatica senza problemi di azione effettiva un esempio molto classico del rilasciamento muscolare che avviene quando ci addormentiamo in generale ma ancora più nel sogno è quando in treno la persona che è davanti a noi chiina una testa però la cosa interessante è che nei neonati e nei bambini piccoli non c'è questa paralisi tra virgolette durante la fase del sogno vorrei che mandasse la regina in onda adesso un filmato che proprio voi avete girato all'università qui di Roma ecco ed è una fase accelerata del bambino vediamo i numeri girare molto rapidamente ecco si vedono i movimenti questa è una fase del sogno del bambino sì qui il bambino entra in una fase che chiamiamo sonno attivo ma che sarà la fase rem nell'adulto e se si guarda il filmato è straordinario come naturalmente è girato un fotogramma al secondo quindi è molto compattato come il bambino il neonato in questo momento ha una serie di possiamo vedere anche nel volto una serie di atteggiamenti di espressività e di motilità che rappresentano quello che dicevo prima una programmazione lei diceva che appunto nell'adulto non c'è questo movimento durante i sogni e questo è un bene professor Rugaresi voi avete girato nel vostro laboratorio del sonno delle immagini che sono abbastanza impressionanti e che adesso vediamo e che riguardano una persona anziana che ha questo diciamo disturbo cioè che durante la fase rem non entra in in paralisi ed ecco cosa succede vuole commentarci un po' queste immagini sì questo è un disturbo che chiamiamo traducendo dall'inglese disturbi comportamentali del sonno rem cioè sono delle persone che lui sta sognando in questo momento sono persone anziane in genere di sesso maschile spesso con delle malattie neurologiche croniche che in cui il sistema di blocco dei muscoli durante la fase dei sogni non funziona allora fanno quel che non dovrebbero fare mimano il sogno e il sogno spesso è un sogno di essere aggrediti di essere attaccati di doversi difendere ecco allora quindi questi movimenti scomposti queste grida e questo è un fenomeno viene accesa la luce la persona si risveglia in pochi anni ne abbiamo registrato 50 casi vuol dire è molto comune nelle persone anziane quindi c'è anche rischio di cadere dal letto esattamente quindi può anche essere pericoloso ecco professor Bertini torniamo ai neonati perché c'è un'altra cosa molto importante che avviene nei neonati durante la fase REM la fase del sogno vediamo queste altre immagini cioè è il momento in cui il bambino queste sono immagini di un bambino credo di due soli giorni si aveva due giorni esprime un po' tutta la gamba delle espressioni lo vediamo qui voi l'avete soprannunato Gassman questo bambino perché è molto espressivo e allora a soli due giorni ha già tutte le espressioni della gioia del dolore del disgusto della sorpresa della tristezza del disprezzo che sono le espressioni di base che poi si svilupperanno nel corso della vita quindi è importante anche per questo questa fase sì questo è interessante se abbiamo osservato queste mimiche facciali si svolgono solo in questa fase in questa età della vita durante il sonno attivo e non nella veglia e ci danno proprio il senso di questa organizzazione delle strutture emozionali ecco si vedono accendi abbiamo codificato con lo stesso sistema con cui si codificano le espressioni emozionali durante la veglia e le abbiamo ritrovate nel sonno attivo con una interessante variazione quando diminuiscono nel sonno attivo ecco il momento che compaiono nella veglia tra l'altro c'è da dire una cosa importante che i rapporti tra madre e piccolo vediamo che bellissimo sorriso a questo neonato rafforzano un po' i rapporti tra la madre e il piccolo proprio perché c'è una risposta un feedback positivo come si dice tutto quello che avviene in quel momento lì l'allattamento si svolge in un processo comunicativo di estrema importanza e questi comportamenti che il bambino emette sono degli stimoli che evocano risposte e la comunicazione tra madre e figlio in queste primissime fasi è tutt'altro che un fenomeno così di tipo retorico ma costruisce proprio le basi del linguaggio e della comunicazione tra il bambino e il suo ambiente io vorrei adesso ricollegarmi con il centro della clinica Columbus all'università cattolica di Roma per avere notizie sul nostro volontario che è rimasto tutta la notte scorsa in bianco senza dormire due notti fa ha dormito pochissimo e adesso che fa dottor Mennuni il nostro volontario ha dormito profondissimamente fino ad un minuto fa casualmente adesso c'è un risveglio ma noi abbiamo fiducia di rivederlo dormire e spero molto presto di potervi far vedere anche una fase REM va bene allora noi aspettiamo fiduciosi intanto io vorrei mostrarvi una serie di filmati che sono stati realizzati nel centro del sonno di Bologna che dirige il professor Lugaresi e che sono estremamente interessanti perché mostrano delle cose che solitamente non si conoscono del sonno ecco vorrei pregare la regia di mandare questi filmati il primo si riferisce a quello che si chiama il pavor notturno ecco questo bambino sta a un incubo però si muove professor Lugaresi sì ci sono è un fenomeno abbastanza comune come anche questo delle gambe questo è un altro fenomeno comune il primo è dei bambini di 4, 6, 8, 10 anni che appunto si svilano dal sonno profondo e queste invece hanno dei disturbi che impediscono loro di dormire sono come degli spasmi alle gambe questa è la sindrome delle gambe senza riposo non riescono a tenere ferme le gambe ma è abbastanza comune questo sì ecco invece guardate bene questo filmato questo è un bambino che sta dormendo in questo momento si è alzato dal letto e tra poco lo vedrete girare come in una forma di sonnambulismo senza essere consapevole di quello che sta facendo perché sta dormendo qui gli dà fastidio il cavo cerca di toglierselo una sua assistente lo sorveglia ritorna sul letto però scende cerca una porta per uscire quindi vede agli occhi aperti poi risale sul letto salta addirittura riscende rigira senza essere consapevole quindi questo è un documento che mostra come durante il sonno a volte nell'infanzia può succedere questa specie di avanti e indietro che può in certi casi anche presentare dei rischi dei pericoli perché ovviamente una persona può andarsene in giro per la casa ecco questo volevo chiedere il sonnambulismo è qualche cosa di raro di difficile da osservare e voi che tipi di osservazioni avete fatto? dunque sia il pavor che il sonnambulismo sono fenomeni relativamente frequenti bisogna dire anche benigni nel senso che colpiscono una certa età tra i 4 e gli 8 10 anni e poi scompaiono e poi sono fenomeni che compaiono raramente ma il famoso sonnambulo che se ne va in giro con le braccia tese sui tetti naturalmente appartiene un po' a così alla letteratura però lei mi diceva che conosce una famiglia di sonnambuli che tutti quanti sono sonnambuli una volta si sono ritrovati tutti insieme in salotto di notte si il sonnambulismo come tutto nella vita può anche essere familiare sono dei sonnambulismi che si ripetono nella famiglia sono così ripetono ma queste persone possono anche uscire di casa o cadere dalla finestra un rischio potenziale c'è tanto che si dice che per evitare dei rischi bisogna chiudere bene le finestre in maniera che non le possa aprire la porta deve essere chiusa quantomeno non deve dare un pianerotolo per cui uscendo dalla porta dalla stanza possa cadere giù da una scala queste persone evitano gli ostacoli quindi hanno gli occhi aperti sì sono in uno stato di dormiveglia c'è uno stato che non è né sonno né veglia come diceva Bertini ci sono di questi stati dissociati in cui c'è parte della veglia e parte del sonno che si mescolano ecco io vorrei entrare in un altro argomento estremamente interessante ed è quello del russare ora io vorrei chiedere qui in platea quanti di voi russano dicono la bugia dicono bugia beh io ve lo dico io quanti di voi russano perché ci sono dei dati statistici che dicono che 25% degli uomini cioè un uomo su 4 russa e il 15% delle donne una donna su 6 russa ma dopo i 60 anni queste percentuali si alzano moltissimo dopo i 60 anni il 60% degli uomini russano e il 40% delle donne quindi una bella orchestra per entrare in questo argomento vediamo questo filmato molto divertente con Luide Funes che è tratto dal film Tre uomini in fuga grazie a tutti grazie a tutti Chi ha esperienza di persone che russano sa che farli smettere è una vittoria provvisoria e temporanea e che le cose ricominciano poi subito dopo a tradimento. Professor Lugaresi, perché si russa? Cosa succede? Il russamento è un rumore inspiratorio ed è legato ad un aumento della resistenza determinata dal sonno della posizione del passaggio dell'aria attraverso le prime vie aeree, cioè tra la lingua e il faringe. Questo pertugio si restringe e allora l'aria passa a maggior velocità presenta delle turbulenze e crea delle vibrazioni nelle pareti, nel velo pendolo. Quella cosetta che si muove in fondo alla lingua rimane compresso e funziona un po' come una tromba. È come un strumento musicale. Però russare vuol dire avere anche dei disturbi e dei disturbi non secondari. Vorrei che lei adesso commentasse questo filmato che è stato girato proprio nel centro del sonno a Bologna che lei dirige e che ora vediamo. Qui è un volontario che viene preparato, anzi qui è anche l'occasione per vedere un po' come voi procedete per preparare le persone a queste registrazioni. Vengono messi degli elettrodi in superficie naturalmente, vengono un po' con del materiale adesivo. Ci sono moltissimi fili poi, tra l'altro. E danno anche un po' fastidio, penso, a chi dorme. Sì, però un russatore con apnee è una persona che dorme in qualsiasi condizione, quindi anche se ha molti fili dorme lo stesso. Vediamo quello che succede. A questa persona che entra nel sonno e il pennino registra quello che avviene a un certo punto. Ecco. Questo pennino, quello centrale, seguite bene quello centrale, che mostra il respiro, quindi su e giù dal respiro. A un certo momento, questo pennino, dopo aver fatto le sue curve di espirazione e ispirazione, comincia a non più muoversi. Ecco. Piano piano, questo pennino, prima con movimenti più sinuosi, poi diventa una linea retta. Questo vuol dire che in quel momento la persona ha una specie di sospensione del respiro. È, come si dice, in apnea. Cioè l'apnea che hanno i sub quando vanno sott'acqua. E qui la vediamo particolarmente lunga, questa apnea. Noi l'abbiamo contata di circa 50 secondi. Quindi questo soggetto smette di respirare per un tempo lunghissimo. Allora, tra poco sentiremo il ritorno dell'aria con un forte rumore e con naturalmente un movimento poi con implicazioni sulla pressione e sul battito cardiaco. Ecco questa parola. Ecco qui il respiro di ritorno. Ecco, professore, questo è un disturbo che colpisce molte persone, che è poco conosciuto, e che può avere delle conseguenze non indifferenti. Cosa succede nell'organismo quando queste cose si ripetono? Intanto, quante volte per notte si hanno queste apnea? Quando si è passati da un banale russamento a uno stato di malattia, queste apnea possono essere 20, 30, 40 per ora. Per ora? Per ora, sì. Quindi diciamo 200 per notte, 300. 200, 300, 400 per notte. Sì, sì, sì. Quindi è un fenomeno, diciamo, è un modo di respirare. Per tutta la notte si respira in quel modo. Diciamo che le persone che hanno questo disturbo dormono male, naturalmente. Si capisce. E ne risentono il giorno dopo. Infatti, quando il russamento da continuo diventa intermittente, può comparire un disturbo che diventa sempre più grave. una sonnolenza continua durante il giorno. Durante il giorno. Che può avere varie conseguenze. Ecco, c'è una persona che è venuta qui in studio, molto cortesemente a raggiungerci, che è il signor Fausto Paris, che soffre proprio di questo disturbo, delle apnee durante la notte. Ecco, intanto la ringraziamo perché la sua testimonianza, come vedremo, può essere molto utile per tante altre persone. Lei non si è mai accorto di avere questo disturbo? Non si è mai accorto un anno fa. Ecco, lei mi diceva che questo le provoca una forte sonnolenza durante il giorno. Giorni e notti perché sto soffrendo questa qui sveglio. Quindi, diciamo, lei ha questi momenti di grande sonnolenza e mi diceva che lei ha un lavoro autonomo, ma se fosse un lavoratore dipendente probabilmente avrebbe dei problemi col suo dattore di lavoro. Ma penso che mi avrebbero cacciato via tutti, perché la gente non ci crede che esiste questo male. Lei lo può testimoniare. Lei ha visto vari medici e nessuno le aveva diagnosticato questo male. Beh, io facciamo una cosa, diciamo, dico tutte le parole soltanto. I gemelli che poi mi ricoverarono in seguito però alla Columbus, dall'altra parte, mi hanno mandato via dal pronto soccorso almeno dieci volte. Così il San Filippo Neri e altri ospedali. E cosa le dicevano? Niente, dicevo niente, sto bene. L'impressione sta a posto. Tutto sta a posto? Le mandano via. Che ti dicono? Grazie. Bene, professor Lugaresi, dicevo che questo è un disturbo non indifferente che può avere anche poi delle conseguenze a livello cardiaco. Sì, infatti noi poi abbiamo anche studiato epidemiologicamente questi casi, abbiamo visto e poi è stato confermato che un grande russatore con apnee è più facile che diventi iperteso, è più facile che farsi degli incidenti vascolari, cardiaci e cerebrali. Poi lei ha ragione, il fenomeno è molto diffuso. Penso che l'1% della popolazione soffra di questo disturbo. Nei maschi tra 30 e 65 anni sono almeno il 3-4% le persone che hanno questo disturbo. Ecco, io tra l'altro qui abbiamo visto, portato una macchinetta che è quella che il signor Paris utilizza e che è stata data appunto dalla clinica Columbus. Ci vuol far vedere senza metterla in moto un po' come funziona. Questa è una mascherina che qui è un compressore. Questo è un compressore, sì, un compressore in aria. Che invia aria a pressione. E mentre si dorme bisogna portarla da un bel sollievo. Come un pilota da caccia, insomma. Però quando si dorme con questo si dorme bene. Lei adesso è da un po' che la usa? Se riesce a dormire, il giorno presto si riesce ad essere riposati. Quando invece non dormendo con questo non sei riposato. Il giorno presto sei più stanco del giorno prima. Ecco, io vedo il dottor Mennuni intanto che è sullo schermo. Dottor Mennuni, lei ha fornito al signor Paris questa macchinetta. Voi ottenete buoni risultati? Sì, in effetti, come ha già detto anche il signor Paris stesso. È un sollievo che poi fra l'altro è abbastanza rapido. Cioè già il giorno successivo. Non c'è bisogno, diciamo, di fare un trattamento per diverso tempo. È immediato il sollievo che il soggetto sente il giorno dopo aver usato durante tutta la notte questo apparecchio. Senta, il nostro volontario che punto è? Ci fa soffrire un po'? Il nostro volontario ci fa soffrire un po' perché ha avuto un risveglio e adesso fatica a riaddormentarsi. Però noi abbiamo molta fiducia su questo. Va bene, intanto noi mandiamo un po' di pubblicità e poi chissà che dopo sentiamo un po' cosa sogna. Allora, a tra pochi minuti. Arrivederci. Di insonnia. Parlavamo all'inizio della quantità di persone che soffrono di insonnia. Si calcola che metà della popolazione più o meno abbia conosciuto almeno qualche volta problemi di insonnia, che un 30% lo abbia con frequenza, il 17% ha dei problemi di rilievo col sonno e un 8-9% ha gravi problemi di insonnia, che vuol dire che 4-5 milioni di persone in Italia hanno questi problemi gravi di insonnia. Allora, le insonnie, vedremo tra poco, ce ne sono di vario tipo. Ci sono le insonnie per cui non ci si riesce ad addormentare, altre in cui ci si sveglia presto, altre in cui ci si sveglia durante la notte, altre in cui ci sono queste varie cose insieme. Poi Verdone ci dirà qual è il suo tipo di insonnia, qual è di questa gamma di insonnia. Svegliarsi presto, durante la notte? Durante, durante più di ogni... E riuscire a addormentarsi? Ma cerco sempre di trovare qualche escapotage, come per esempio ci sono delle musiche particolari che mi aiutano. O anche... Beh, parliamo dopo poi dei rituali, perché ognuno di noi ha una posizione, ha un cuscino, ha un modo di leggere, eccetera. Quello che è curioso è che ci sono persone che hanno sonno, vanno a letto e come si mettono sotto le coperte, di colpo il sonno sparisce. Vediamo questo cartone animato con Pippo di Walt Disney. Ecco uno che dorme in piedi. Riesce a malapena a stare sveglio il tempo necessario per andare a letto. Quest'uomo ha un problema. E una volta raggiunto il letto, il sonno l'abbandona definitivamente. Bene, c'è anche un aspetto curioso dell'insonnia ed è che certe persone vanno a letto e per così dire pensano di non addormentarsi e si autosuggestionano e finiscono per non riuscire a prendere sonno. Professor Bartini, c'è un modo per decondizionarsi? Eh beh, sì. Quando uno pensa alla funzione spontanea come il sonno, il riflettere e pensare su questo crea proprio la difficoltà al fenomeno che avviene. Quindi non bisogna pensarci. Per questo la cosa che prima uno suggerisce è che se indugiali nel letto è molto meglio che stia alzato e che giri per fatti proprie. Ecco, quindi non bisogna stare a letto a aspettare che il sonno arrivi. Perché si associa a un condizionamento negativo con il letto stesso, per cui il fatto di rimettersi a dormire crea... Tra l'altro avremo un tabellone che mostreremo tra poco in cui faremo vedere alcune di queste associazioni sbagliate che ci sono. Ecco, l'altro aspetto invece è quello di cercare di spostare l'attenzione su altre cose. Comunemente uno comincia a contare le pecore, queste cose qua. Però ci sono anche delle tecniche particolari che uno può acquisire facilmente per spostare l'attenzione dalla preoccupazione, dall'angoscia di non drumentarci. Ecco, sentiamo un po' da Verdone e da Alessandra Piano e da Aleandro Baldi. Voi avete dei rituali? Un cuscino, una posizione? Sì, ma io lo abbraccio in genere, mi metto da una parte. Però il rituale... Devo controllare due volte che tutto il gas di casa è chiuso. L'ho scaldabagno, poi vado a led e poi non sono sicuro ancora. Quindi ci devo ritornare la seconda volta. Perché dico, ero distratto. Quindi quello è il rituale fondamentale, controllare tutto il gas di casa. Dopodiché, quando il gas è chiuso... Si prende un registratore e se il sonno tarda a venire si mette questa musica che si chiama Steel Cathedral di David Silvian oppure si prende... Ma ce l'ha portata questa musica? No, non l'ho portata. Ma noi adesso la recuperiamo. Come si chiama? Ve la devo dare io. Steel Cathedral. Vabbè, poi magari facciamo... È molto monotona, è molto soft, è nirvanica. Vabbè. Non dà fastidio. Oppure la quinta o la nona di Mahler che sono fantastiche. Vabbè, vabbè. Alessandra Piano, lei... Ma per me deve essere tutto... La stanza è completamente buia. Mi dà fastidio persino la lucetta, quella che c'è, non so, delle sveglie, quella che avevi nella radiosveglia, mi dà fastidio. Uno spiraglio di luce mi dà fastidio. Le madoline fosforescenti. Mi danno fastidio anche quelle. E poi mi piace molto leggere, ma perché mi piace comunque leggere, perché non ho problemi di... Non è che leggo per addormentare. Adesso ti faccio ancora in vita. Alejandro Baldi, lei ha difficoltato per prendere sonno. No, io molte volte non faccio... Molte volte proprio mi addormento di sasso. E altre volte invece faccio dei viaggi immaginari con la fantasia. Mi immagino di essere in paesi strani, in posti strani. A volte questi viaggi mi prolungano ancora un po' l'insonnia, ma poi alla fine trovo sempre il modo di addormentarmi. Ecco, sentiamo un po' come Pippo in questo cartone animatico di Walt Disney cerca il sonno attraverso i suoi rituali. Vi sono dei rimedi scientifici contro il problema dell'insonnia. Come sprimacciare il letto? La scienza ha scoperto che l'aria fresca fa bene alla salute, perciò riteniamo che una stanza bene arieggiata aiuti la respirazione, permettendo al sistema respiratorio di funzionare al massimo dell'efficienza. In ogni caso, se la temperatura dovesse scendere al di sotto dei requisiti necessari al benessere corporeo, allora una coperta elettrica vi terrà caldi come in un forno. Il latte bollente è molto in uso. E naturalmente contare le pecore è un rimedio infallibile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, tre, aiuto, il gregge! Bene, professor Lugaresi, di fronte a questa situazione molte persone cominciano a prendersi dei farmaci, ascoltando gli amici, i parenti, il sentito dire che è la peggior cosa, penso, per curarsi. Penso proprio di sì, l'autoprescrizione, poi il fare da sé, che porta necessariamente, obbligatoriamente, degli errori, nel senso che per un po' si dorme meglio e poi non si riesce più a dormire, allora si aumentano progressivamente le dosi. Io ho visto una persona che prendeva 20 compressi di sonnifero tutte le sere perché non accettava la sua insonnia. Vogliamo ripetere, lo dicevamo prima, che l'insonnia è un sintomo. Quindi bisogna curare quello che c'è dietro perché a volte l'insonnia è dovuta a una serie di problemi che sono di natura medica, ci sono problemi di depressione soprattutto, ci sono delle questioni anche legate a dei dolori, quindi bisogna prima vedere un po' cosa c'è dietro l'insonnia. È fondamentale fare una buona, come diciamo noi in gergo, anamnesi, cioè cercare di capire da dove nasce quell'insonnia perché appunto ci sono delle preoccupazioni di ordine morale ma ci sono anche dei dolori fisici, ci sono delle situazioni familiari, delle situazioni ambientali. Bisogna cercare di capire tutto per rimuovere quel che è rimovibile, dopodiché ci sono dei consigli pratici e poi si pensa alle medizie. Il medico è poi specialista anche nei problemi di sonno che può dare i consigli giusti anche perché poi le dosi variano molto da individuo a individuo, da uno a un quarto ho letto, c'è un rapporto da uno a quattro a seconda delle persone. Io intanto vedo apparire sullo schermo il dottor Mennoni, che cosa ci dice il dottor Mennoni? Il nostro volontario a che punto è? Il nostro volontario forse ha finito per andare anche in sonorem. Se potete riuscire a vedere sul poligrafo, vedete che in effetti ci sono questi movimenti delle penne su questi due canali che sono indicativi e poi vedete successivamente ancora dei movimenti oculari rapidi che si ritrovano nella fase REM e potete vedere il tono muscolare che è assente. Quindi dovremmo essere nella fase dei sogni. Senta, vogliamo svegliare finalmente questo nostro volontario e chiedergli se sta sognando e se si può dire che cosa sta sognando? Mi sente? Mi sente? Sì, sì. Ricorda qualcosa? Stava sognando per caso? No, no, non ricordo. È sicuro di non ricordare assolutamente niente? Della pioggia. Della pioggia? Sì, della pioggia. Soltanto della pioggia o qualcos'altro? No, 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 solo pioggia. Non ricorda assolutamente nient'altro? No. Vabbè, comunque pioveva. Non ricordo altro. In questo sogno sappiamo che pioveva. Bene, professore Lugaresi, magari ci richiami, dottor Mennoni, se ci sono novità o se si ricordate di qualcos'altro. Senz'altro. Grazie. Di nuovo. Professore Lugaresi, parlavamo prima un po' dei farmaci che vengono usati. Noi qui abbiamo preparato una tabella che sarebbe molto interessante per chi soffre di insonnia vedere, perché ci spiega un po', se vuole venire con me, come agiscono questi farmaci durante il periodo del sonno. Ecco, abbiamo due bacchette, una per me e l'altra per lei, e vorrei mostrare che qui noi abbiamo raffrigurato in questo schema le 24 ore. Quindi qui si passa dalla notte al giorno e poi di nuovo alla notte. Questa è l'azione dei farmaci. Abbiamo rappresentato vari tipi di farmaci che hanno naturalmente un'azione che rapidamente sale, raggiunge un picco e dopodiché comincia a decrescere. E vedete che vari tipi di farmaci decrescono in modo diverso. Quello che interessa i ricercatori sul sonno è quello che si chiama l'emivita, cioè il dimezzamento dell'azione del farmaco, che abbiamo rappresentato con questa linea. E vedete che ci sono dei farmaci che hanno una emivita, cioè una metà del loro tempo di azione, verso tre ore e mezza dopo l'assunzione, cinque ore e mezza, dieci ore, venti ore. In realtà ce ne sono poi molti anche intermedi. Ecco, professore, ora, come consigliare il farmaco giusto? Il farmaco va molto personalizzato. Se una persona ha un'insonnia soprattutto dell'addormentamento, allora un farmaco a emivita molto breve è indicato. Però un'emivita brevissima non è indicata perché l'effetto finisce nel cuore della notte e ci può creare un fenomeno che noi chiamiamo l'insonnia di rimbalzo. Quindi breve ma non brevissima. Bisogna dire che in persone giovani molto ansiose può essere anche giusta un farmaco con un'emivita un po' più lunga perché permette un risveglio in uno stato di, diciamo, minore ansia, minore angoscia. Quindi diciamo per chi vuole risolvere il problema nella notte perché ha solo problemi in questa fase del ciclo, allora sono esatti amivita brevissima. Altri che hanno problemi di ansia che determinano poi l'insonnia, è meglio forse avere dei farmaci. Vorrei aggiungere che se uno anziano, siccome i farmaci tendono ad accumularsi nel vecchio, non deve usare i farmaci amivita lunga. Perché ci sono delle sostanze chimiche, dei metaboliti, come si chiamano, che in qualche modo vengono poi a accumularsi nell'organismo e a creare dei problemi. Ed è per questa ragione che voi consigliate di non prendere ipnotici per più di tre o quattro settimane. Senta, tra l'altro, rapidamente, senza entrare troppo nella discussione tecnica, ma la differenza tra ansiolitici e ipnotici. Cioè, gli uni dovrebbero curare il sonno in sé e gli altri l'ansia e di riflesso il sonno. In gran parte è una differenza così molto artificiale, creata anche dall'industria farmaceutica, che vuole commercializzare quel farmaco con quelle indicazioni e l'altro con un'altra. Sono in realtà tutti benzodiazepine. Certo, gli ipnotici sono farmaci che in genere agiscono molto rapidamente. Un ansiolitico non necessariamente agisce rapidamente. D'altra parte, un ansiolitico usato a una dose alta diventa un ipnotico. Ecco, quindi non vedo differenze sostanziali. Se me lo consente, è anche molto importante distinguere un'insonnia incipiente che sta per cronicizzarsi, che dura da poche settimane. Allora, in quella è necessario intervenire subito, anche con i farmaci. Ma un'insonnia cronica che dura da anni, allora il problema poi diventa diverso. diventa un problema di come arrangiarsi senza diventare dipendenti dai farmaci. Professor Bertini voleva aggiungere qualcosa. È estremamente importante considerare l'insonnia come un sintomo e capirla in profondità, non solo nel versante neurologico, ma anche nel versante psicologico. Se si dimentica l'uno o l'altro e si radicalizzano gli interventi, si fanno degli errori gravissimi. Io vorrei ricordare che dal punto di vista psicologico, uno che esamina in un modo così, coerente e rigoroso, può risolvere e non far entrare nel meccanismo perverso dei farmaci, risolvendo certe cose molto semplici, oppure affrontandola tecnicamente sul piano strettamente psicologico. Quello che lei dice, professor Bertini, è importantissimo perché gli stress, come si dice, ma anche le ansie della vita e anche il modo disordinato di vivere possono avere come conseguenza poi sul sonno. Quindi direi che occorre quella che i ricercatori chiamano una buona igiene del sonno. E in proposito, noi abbiamo preparato un tabellone nel quale, sia pure in modo molto schematico, forse diamo qualche buon consiglio a chi ha problemi di sonno e di insonnia. Ecco, sono 12 punti che vi potete segnare se volete o comunque rifletterci. Evitare irregolarità negli orari, cercare di coricarsi sempre alla stessa ora, anche se la notte precedente è stata insonne. Se 30 minuti dopo essersi coricati si ancora svegli, alzarsi e cercare di rilassarsi in un altro modo. Non trasformare la camera di letto in un bivacco o in un salotto, evitando di utilizzarla per mangiare, per leggere o guardare la televisione. Un regolare esercizio fisico favorisce il sonno, evitare però di farlo di sera. Prima di coricarsi, evitare attività mentali troppo impegnative o spettacoli troppo emotivi. Non consumare alcol, caffè o bevande contenenti caffeina la sera. Evitare di andare a letto a digiuno o con lo stomaco troppo pieno. Non fumare prima di coricarsi. Evitare di dormire durante il giorno o alla sera davanti al televisore. Fare in modo che la camera da letto sia buia, fresca e silenziosa. Crearsi delle abitudini prima di andare a letto, come fare il bagno, lavarsi i denti, eccetera. Evitare dei farmaci che possano interferire con il sonno. Anche perché, questo è da dire, ci sono dei farmaci che poi hanno un ruolo contraddittorio con quello del dormire bene. Allora, perdone, tutto questo decalogo, do dettaglio. Mi sembra... Può aiutare? Ma io direi di sì. Lo notiamo bene. Lo notiamo bene, però io sono anche d'accordo nel... Secondo me non c'è niente di male qualche volta a prendere una pasticchina. Tutti quanti ogni volta che dicono la cosa, ah, per carità, ma non dà nessuna dipendenza. Basta, ecco, farsi seguire giustamente dal medico, non fare di testa propria. Ma senta, stasera, lei dopo aver sentito tutte queste cose, pensa che dormirà peggio o dormirà meglio? No, credo che dormirò normalmente. Normalmente, poi ho avuto un colloquio molto affettuoso con il professor Lugaresi che mi ha detto, ecco, bisogna conviverci con queste cose, con molta saggezza. La prossima volta le mettiamo gli elettrodi in testa... La prossima volta, però io l'ho detto con la stanza, sai che risate. Quanta acqua poi, sì. Alessandra Piano, questo do decalogo le serve a qualcosa? A lei non serve. Ma a me non serve, io semmai devo cercare il dormire un po' meno. Il contrario, lei ha bisogno. Il contrario, no, no, no. E Andro Baldi? Beh, dipende, ma in linea di massima direi di sì. Una battuta conclusiva, dottor Mennoni, la vediamo sullo schermo. Allora, si è riaddormentato il nostro volontario? Si sta faticosamente riaddormentando. Beh, lasciamolo a dormire, che poveraccio. Sono due giorni che non dorme. Ecco, sembra con queste mani incrociate chiedere proprio, implora di lasciarlo dormire. E noi lo lasceremo dormire. E quindi, su queste ultime immagini che ci concediamo da voi, vi ringraziamo tutti di essere stati con noi questa sera. Vi auguriamo di dormire bene e buonanotte dal fuori italico. Arrivederci. La continuazione della vita. In passato di bellezza si sono occupati soprattutto poeti, artisti.